Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldassi il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo si trovò, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Dentro l'interrogativo che Pietro pone a Gesù ci stanno anche tutte le nostre inquietudini sul delicatissimo tema del perdono. Pietro ragiona come noi e noi come lui. Nessuna difficoltà a concedere il perdono a chi lo chiede, a chi vive con noi, a chi è per la prima volta che commette una colpa contro di noi. Quando però il colpevole è recidivo, quando si macchia di colpe e di reati efferati e inaccettabili, dobbiamo perdonarlo ugualmente? Dentro il quesito di Pietro è presente il pregiudizio che da sempre si nasconde nella pancia del nostro sistema sociale comunitario. Alcune colpe sono imperdonabili e devono essere, così la pensano tanti, non solo esemplarmente fermate e punite, ma anche estirpate dal tessuto sociale con l'eliminazione fisica del colpevole. Non a caso tante volte si parla di pena di morte o di carcere a vita. La riflessione che va subito chiarita è che Gesù non presenta il perdono come un gesto magico che annulla il male ricevuto e nemmeno come un colpo di spugna che dimentica le vittime e che nega le responsabilità del colpevole. E chi pensa al perdono di Gesù come un gesto facile da chiedere agli altri non fa altro che tradire la parola di Gesù e annullare la forza profetica del suo perdono vero. La proposta di Gesù è molto più bella perché ha la forza di sradicare dal nostro cuore il male e la violenza che vorrebbero diventare il solo movimento dell'agire umano. Lo sappiamo tutti. Se si innesca la spirale viziosa della vendetta, si entra in un movimento che non si ferma più. Infinito. Eternità di male resa molto forte dalle parole della Genesi quando Lamech chiede ai suoi familiari di vendicare il torto subito 70 volte 7, quindi all'infinito. Gesù riprende questa espressione ma la applica al bene per dire che se il perdono intriso di bene prende il posto del male e sradica la voglia di violenza presente dentro il nostro cuore si innesca il dinamismo dell'amore che riposa il cuore e che genera vita per sempre all'infinito. Un ragionamento, quello di Gesù, per nulla astratto e decisamente lontano dalla sola teoria. Per essere concreti, quando Cesare Beccaria, nato nel 1738, prova a rileggere il sistema penale del suo tempo alla luce del Vangelo, capisce che se la prigione è un luogo buio, degradato, carico di infezioni e di torture che spengono lentamente la vita, non solo diventa un luogo disumano per troppi innocenti affidati giustamente alla galera, ma anche una simile condanna è ingiusta per il colpevole. Cesare Beccaria intuisce che rispondere al male del detenuto con un altro male è un meccanismo ingiusto e dunque disumano. Quanti lo seguono fin da allora nei suoi ragionamenti iniziano perciò a interrogarsi sul come costruire una prigione, senza torture, senza violenze e senza negazioni della dignità, convinti che solo alla luce della carità e del perdono, la giustizia della detenzione si rende vera, umana ed efficace. Il Vangelo che abbiamo letto è diventato così ispiratore di un pensiero giuridico e penale rivoluzionario, capace di rendere più umano il nostro convivere e il nostro sistema giuridico. La proposta di Gesù di vincere il male con il bene diventa operativa senza annullare la responsabilità di chi ha causato un danno sociale. Pensiamo alla nostra Costituzione al numero 27 quando dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere, dice la Costituzione, alla rieducazione del condannato. Senza la risposta di Gesù a Pietro, l'umanità non avrebbe fatto la scelta di un sistema detentivo ispirato a principi rieducativi. E il fatto che stia crescendo oggi in Italia la fiducia solo nel sistema repressivo, nel carcere e nella detenzione è il segno che ci stiamo allontanando dalla saggezza proposta da Gesù e dalla luce che proviene dal suo Vangelo. Ci sono sempre di più persone che chiedono in questa nostra società pene esemplari, pene certe e sanzioni sempre più dure e che volutamente dimenticano che la pena detentiva può essere solo rieducativa. Sono tanti coloro che si fidano nei casi di microcriminalità minorile, più del sistema repressivo che non degli investimenti di maestri, di assistenti sociali, di centri educativi, di oratori, di allenatori, di biblioteche, di scuola e di servizi formativi. Se questo accade però diventiamo anche noi come il servo del Vangelo che abbiamo letto che chiede pazienza per il suo debito di diecimila talenti e che strangola senza pietà chi gli deve cento denari. Dimentichiamo cioè di essere stati perdonati e non siamo più che capaci di vedere la luce rigenerante che dà il perdono a chi chiede aiuto con i suoi errori. San Matteo in questa domenica ci aiuta a crescere dicendoci che la giustizia senza carità diventa pratica disumana e che la carità senza giustizia diseduca e non sradica la violenza della storia. proprio perché oggi la parola di Gesù si presenta come una profezia audace e forte mi sia concesso un pensiero, un ricordo e una preghiera speciale per i nostri fratelli detenuti e per quanti lavorano nelle nostre strutture detentive. Buona domenica. Caro Gesù, sul Vangelo di nonna nelle notte c'è scritto che diecimila talenti equivalgono allo stipendio di 25 anni di lavoro, mentre 100 denari sono la busta paga di tre mesi. In pratica chi ha ricevuto un perdono grandissimo diventa spietato con chi gli deve pochissimo denaro. Gesù, forse hai ragione tu, siamo proprio fatti così ed è per questo che abbiamo bisogno del tuo Vangelo, per chiedere perdono e perdonare chi ci fa del male. Non è facile, anzi è difficilissimo e chiede tanto allenamento e tanta preghiera. Ancora una cosa Gesù, gli indiani d'America dicono che il nostro peggiore nemico siamo noi stessi quando non ci perdoniamo. Secondo me hanno ragione. Aiutami Gesù a crescere come dici tu e a sentire che tu sei così buono con me che mi insegni a perdonare non solo chi mi fa dei dispetti, ma anche me stesso. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.